Il 90,7% delle persone con disabilità che vivono in Umbria ha dovuto usufruire almeno una volta di prestazioni sanitarie private. È questo uno dei dati emersi dal Rapporto Indagine Conoscitiva su Persona con Disabilità e Assistenza Territoriale, promosso dalla Pietra Scartata APS e presentato nel corso del convegno, la Centralità della Persona nell'Assistenza Territoriale, organizzato dalla stessa associazione e che si è tenuto venerdì scorso presso il Centro Congressi dell'Hotel Gio a Perugia. Un focus sull'assistenza territoriale che il Servizio Sanitario Nazionale ed il Welfare Sociosanitario Contemporaneo offrono alle persone con disabilità e dalle loro famiglie nella progettualità e reale sostenibilità di una vita indipendente che, necessariamente, si sostanzia attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie, economiche, di servizi sociosanitari e domiciliari. Un appuntamento a carattere regionale che ha visto riuniti intorno a un tavolo esperti delle discipline mediche, infermieristiche, riabilitative, sociali e del terzo settore di tutta l'Umbria per parlare di un futuro di diritti esigibili e di inclusione.